ben trovate un nuovo appuntamento con weekend sul lago io siccome sono sincera ve lo dico subito che se non vi piace il natale dovete cambiare canale se invece non vedete l'ora di conoscere dove saranno i mercatini dove sarà babbo natale perché si sposta sul lago in questo weekend che cosa mangiare dove mangiare tutto quello che riguarda il natale invece state con noi per i prossimi 15 minuti e noi andiamo a bellaggio perché siamo con il presidente di promo bellaggio carlo sancazzano benvenuto eccoci benvenuti a voi grazie mille grazie per l'ospitalità ma ci mancherebbe molto volentieri anche perché bellaggio noi sappiamo un po il la perla sul nostro lago attira tantissimi turisti però quest'anno mi stava dicendo che volete valorizzare qualcos'altro ma quest'anno proprio quest'anno in modo particolare dopo queste invasioni questi grossi problemi di overcrowd che ci siamo trovati ad affrontare ma sono dei problemi che che in realtà sul lungo periodo vanno tenuti in considerazione capisco che su che in altre parti del lago vengano vissuti diversamente ma sono dei problemi con i quali dobbiamo lavorare insieme a livello proprio di lago credo però per continuare sul nostro argomento di fatto questa continua ricettività e questo continuo momento di ospitalità ci siamo resi conto ci sta facendo un po perdere il senso della nostra comunità e natale crediamo sia proprio un momento fondamentale per celebrare in primis il fatto di essere un paese che vive come paese e che ha come essenza la capacità di essere ospitale ma per essere ospitali bisogna essere tranquilli con se stessi e bisogna sapere vivere il proprio paese in un certo modo e il natale abbiamo pensato essere proprio questo momento di celebrazione della comunità della famiglia della famiglia famiglia quindi bello ricevere i turisti ci mancherebbe ma ma il natale in famiglia esattamente si è proprio pensato a un piccolo percorso dove la famiglia ritorna a se stessa per mostrarsi a tutti gli altri e quindi abbiamo pensato a un calendario ea una strutturazione del natale in maniera molto semplice in momenti così complessi come quelli che stiamo vivendo probabilmente la semplicità è una delle cose più belle e abbiamo arredato e abbiamo chiamato questo periodo come luci di stelle perché il centro di tutto sono queste due grandi stelle che sono state piazzate una nella piazza della chiesa e una sulla punta per celebrare bellaggio su tutto il lago che sono dei punti luminosi che devono fare un po da attrattiva e questa è proprio la parte illuminotecnica del paese all'interno di questa costruzione abbiamo pensato a un calendario che è un calendario per la comunità dal fatto dalla comunità e per la comunità aperto chiaramente anche agli ospiti che vorranno venire a frequentare il paese mi stavo chiedendo perché al centro la comunità si dedica il natale un natale in famiglia per bellaggio però posso andare anch'io certo è chiaramente aperto a tutti e bellaggio è bella da visitare proprio in questi momenti una delle delle parti comunicative che stiamo cercando anche di portare è cominciate a venire a bellaggio nei periodi non tradizionali nei periodi dove non esiste questa invasione e scoprite la vera originalità di bellaggio come la nostra famiglia ed è per questo che chiaramente tutti gli eventi sono aperti sono aperti a tutti ma non sono pensati per gli esterni sono pensati prima prima per noi abbiamo una serie di eventi che si concentrano nel centro del paese ma utilizziamo molto anche le frazioni e abbiamo anche molto civenna civenna fa è entrata a far parte di bellaggio pochi anni fa ma è molto attiva è molto vivace ed è della zona montana del paese quindi richiama anche ancora di più il natale molte delle 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 attività passano proprio sul paese sul paese frazione di civenna io carlo mi permetto di dire una cosa che a me piace tantissimo viaggiare e mi piace andare in quei posti che sono ancora autentici e invece spesso cosa succede che tu vai in un posto turistico e fanno ti fanno le cose ad hoc per i turisti e invece vedere le tradizioni vere quello il bello di andare a visitare un posto e mi sembra che voi state percorrendo questa strada esemplifichiamo un pochettino anche questo concetto perché era proprio questo il concetto di partenza la comunità diventa ospitale quando vivono spesso si criticano le feste delle salamelle eccetera eccetera che però in realtà sono i veri momenti della comunità per portare un esempio nei confronti di questa cosa che è il il nostro periodo natalizio un bellissimo momento su cui inviteremmo tutti e che sarà bellissimo condividere è quello della corale bilaccus notte di cielo è una serata molto tradizionale per per il nostro paese in cui la nostra corale dedica una serata al paese con uno spettacolo che dura circa due ore in cui porta i propri canti e che sono canti natalizi chiaramente per il paese questo momento del concerto è seguito da uno scambio di auguri per per la comunità dentro dentro la piazza della chiesa ed è proprio un bellissimo momento sia artistico che che di comunità e ci auguriamo che possa essere visitato da molti e questo è uno degli esempi avremo poi gli zampognari nella 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 piazza della della chiesa di civenna che sono un altro momento molto natalizio e molto vissuto per la comunità ma che sono aperti che sono il problema carlo che voi avete troppi turisti fate questo natale dedicato alla comunità un po contro la globalizzazione per far risorgere invece le radici le tradizioni e verranno ancora più persone io ve lo dico verranno ancora più persone a bellaggio è nel nostro destino siamo 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 un paese che deve fare ospitalità e farà l'ospitalità ma ci teniamo a lavorare tanto su noi stessi perché ci stiamo un po perdendo durante l'estate non abbiamo neanche tempo di vivere fra di noi proprio perché siete talmente tanti sono gli abitanti sono 4 mila intorno ai 4 mila abitanti in estate arriviamo anche 12 mila quindi abbiamo un cambio un cambio importante e soprattutto nei mesi fra maggio e settembre questa visitabilità di bellaggio sta diventando molto importante noi viviamo di questa cosa quindi dedichiamo il nostro tempo all'ospitalità e per ospitare non abbiamo il tempo per condividere senti carlo noi purtroppo ci dobbiamo salutare che il nostro tempo è finito però io vorrei proprio rinvitarti per dopo il natale per parlare che mi racconti comandata io sono passata da lei al tuo spero che non ti dispiace sono molto felice fa parte dell'essere ospitali siamo molto semplici ed ospitali mi piace molto questo questo del tuo e sarò felice di tornare a raccontare quello quello che è successo e sarò felice di cominciare a pensare a come possiamo condividere bellaggio con tutto il resto del lago perché ci sono bellaggio dovrebbe non più essere solo il punto dove mandare tutti ma dovrebbe essere un punto da cui partono per conoscere anche tutto il resto del lago e ci piacerebbe molto che questo succedesse grazie grazie mille noi ci vediamo tra pochissimo con tutti gli eventi di questo weekend pippo cosa dici tu di questa idea anzi ideologia spendo questa parola del dell'organizzazione del natale di bellaggio mi è piaciuta molto anche a me andrò a vederlo perché sono abituato a una bellaggio estiva e la bellaggio invernale ancora non ho avuto il piacere di ammirarla si anche a me incuriosisce ma comunque adesso andiamo avanti con il nostro listone perché sono tanti gli eventi legati al natale sul lago e andiamo subito a valmadrera dove l'evento clou del natale sarà proprio domani venerdì 8 dicembre alle 10 apriranno i mercatini natalizie dell'artigianato e al via anche laboratori per bambini animazione con i giochi di una volta e ospite d'eccezione fino a mezzogiorno babbo natale che ritirerà le letterine ma non finisce qui la giornata valmadrera nel pomeriggio alle 16 il corpo musicale santa cecilia terrà un concerto natalizio e questa escalation di eventi porterà alle 17 all'accensione delle luminarie dell'albero che è particolare perché è stato realizzato all'uncinetto e le proiezioni natalizie vi ricordo inoltre che sabato mattina in oratorio a valmadrera è possibile ritirare il panettone o pandoro che avete ordinato in un'elegante confezione di metallo personalizzata e la vediamo nella locandina e venerdì arriva la tanto attesa grande tombolata di natale dalle 21 al palastole di bellano e poi sabato grande giornata sempre a bellano a partire dalle 10 e 30 con i campanari di bergamo come me bergamaschi a seguire alle 14 e 30 piazza grossi sarà animata da uno spettacolo di magia giocoleria con l'elfo minstix pepper possibilità anche di fare giri turistici in elicottero e ancora in piazza grossi dalle 16 in una cassetta delle lettere collegata direttamente con il polo nord è possibile imbucare la propria letterina e dulcis in fondo dulcis letteralmente abbiamo frittelle vin brulee tè e zucchero filato valvarrone ci aspetta invece con i mercatini di natale in cantina sabato alle 14 dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 18 ci saranno espositori con prodotti locali hobbistica le fies armoniche paesane e laboratorio per i più piccoli con animatori trucca bimbi e special guest ancora questo babbo natale che ultimamente sta facendo un tour non si ferma mai è sempre qua in giro sul lago spero che anche quest'anno passi anche da me lo auguro ah non lo so se passa ti porta il carbone secondo me non mancheranno i banchetti sabato sul menù chatte bresaola e domenica spiedo formaggio polenta e ovviamente a chiudere sempre il dessert domenica mandello una giornata dedicata all'attesa del natale ci saranno alcuni laboratori creativi e la possibilità di provare le mini moto elettriche e domenica attenzione perché babbo natale prosegue su tour del lago e sarà villa vergano a galbiate per accogliere le letterine appuntamento in piazza della chiesa alle 10 all'eremo del monte barro intanto sarà allestito il mercatino natalizio con prodotti locali decorazioni e idee regalo create con materiali di riciclo e poi dalle 11 a stare al barro bisogna addobbare l'albero tutti insieme io dico bisogna in realtà non siete obbligati però per me è proprio una bella idea una bella cosa ognuno porta il proprio fiocco e viene appeso sull'albero nel periodo natalizio tutti lo possono vedere mi piace mi piace molto come idea mi raccomando portate un bel fiocco resistente perché se piove o meglio ancora nevica deve rimanere lì lunedì andiamo a settimana prossima quindi ci sarà un momento meno festoso e più riflessivo sul natale con l'incontro al circolo acli a villa vergano sogniamo insieme un natale di pace e martedì 12 si torna a festeggiare questa volta con gli alpini che sono i maestri delle feste festa di natale che inizia alle 20 e 30 nella sede del gruppo del monte barro con taglio del panettone e scambio degli auguri e adesso io ho inserito anche un'altra una serie di appuntamenti di vario tipo li ho messi in ordine cronologico non ho diviso per categorie perché per me il cuore di questa puntata è sempre il natale che mi piace quindi in ordine cronologico questa sera lo spot di galbiate ospite matteo garbellini che racconta il suo viaggio tra italia e portogallo in bicicletta con la proiezione delle fotografie di questa avventura e andiamo domenica mattina a bellano dove si terrà la 35esima coppa d'inverno dell'ario 91 equipaggi al via partenza alle 10 e 30 settimana prossima partiamo da lunedì all'auditorio ingolfari di galbiate con la presentazione del libro dello storico davide conti fascisti contro la democrazia almirante rautia alle radici della destra italiana martedì si torna allo spot di galbiate per pane e vino quindi tutt'altro una serata per tutti di formazione e degustazione di vino per un martedì culturale invece vi propongo la presentazione del libro valmadrera segreta scritto da vincenzo dell'oro e giambattista magistris al centro culturale fate bene fratelli si parlerà di quest'opera che è attinto agli archivi comunali e quindi racconta di una popolazione dedita all'agricoltura di numerosi casi di indigenza vissuti però con dignità e infortuni sul lavoro gli antichi mestieri ma anche i contrasti tra comune parrocchia le tensioni politiche quindi regala un bello spaccato della valmadrera di un tempo attraverso degli episodi specifici quindi una lente di ingrandimento sulla storia e poi il cinema pronti per il cinema preparate subito più o meno e sciarpa perché la prima proiezione interessante che vi propongo è proprio questa sera alle 21 il nuovo film di Ridley Scott Napoleon e resterà in sala anche venerdì sabato e domenica il film propone una visione demitizzata di Napoleone se ci si aspetta di andare a vedere una vera storia si viene un po' traditi però vale la pena comunque vederlo perché l'immagine è bellissima il regista non si tradisce e poi è curioso vedere anche questa visione cinema pomeridiano alle 17 venerdì sabato e domenica a Bellano tutt'altro genere prendi il volo un cartone animato su una famiglia di anatre con il papà anatra un po' apprensivo la mamma più avventurosa che trascina tutta la famiglia in questa nuova avventura di immigrazione verso la giamaica lasciano lo stagno la sicurezza dello stagno e vivono questa avventura pericoli difficoltà ma anche emozioni una bella storia secondo me e ancora venerdì in prima serata al cinema ferrari di galbiato e killers of a flower moon di scorsese mentre sabato e domenica sempre al ferrari resta in sala 100 domeniche di antonio albanese alle 21 sabato alle 16 i bambini non possono mancare la proiezione di canto di natale di topolino al cinema di andrea di mandello e non possono mancare perché oltre al film ad aspettarli fuori dalla sala ci sarà babbo natale con la slitta e la possibilità di portare la propria letterina sarà lui stesso a portare la vostra letterina al polo nord e con questo per oggi è tutto noi ci vediamo giovedì prossimo alle 20 e 40 buon weekend a